In diesem video geht es um den Comparativ und um den Superlativ in der deutschen Sprache. In questo video spiegheremo la differenza tra il Comparativo e il Superlativo in tedesco. Qual è la differenza tra il Comparativo in funzione predicativa e quello in funzione attributiva quando si usa il Superlativo con Ampustin e invece quello con l'articolo determinativo? Ecco, faremo un po' di chiarezza e cercheremo quindi di spiegarvi la differenza tra schneller e einen kürzeren quindi quando abbiamo la funzione predicativa e la funzione attributiva e quando abbiamo am schnellsten oppure der schnellste Läufer. Quando parliamo di aggettivi esistono tre gradi dell'aggettivo. Si parla appunto di gradi. Abbiamo il grado cosiddetto positivo Peter ist alt, Peter è vecchio. Diamo quindi una caratteristica di questo signore che si chiama Peter. Non sappiamo quanti anni ha, sappiamo soltanto che è vecchio. In questo caso vecchio, alt, è in funzione predicativa. In tedesco non si declina mai l'aggettivo in funzione predicativa. In italiano invece si declina. Peter è vecchio ma Giovanna è vecchia. Quindi abbiamo maschile e femminile. In tedesco invece è sempre alt. Poi abbiamo il comparativo. Quindi quando confrontiamo, in questo caso, due persone, confrontiamo per esempio Peter con Stefan e quindi possiamo dire che Stefan ist älter als Peter, quindi abbiamo confrontato due persone, avremmo potuto anche confrontare due animali, due libri, due oggetti, comunque due elementi. E poi abbiamo il superlativo. Rolf ist am ältersten. È quello che in assoluto appunto ha raggiunto l'età massima, 95, tra tutti quelli che appunto sono stati confrontati. Quindi l'aggettivo in tedesco, ma anche in italiano, ha tre gradi. Quello positivo, quello neutrale se volete, quello al comparativo, quando confrontiamo due persone, due elementi, e al superlativo. Adesso noteremo che in tedesco, per formare il comparativo, utilizzeremo l'aggettivo, dovremo modificarlo, e sarà seguito appunto da una particella, la particella als. Poi avremo anche il superlativo, con am più sten, ma poi vedremo che ci sono anche delle eccezioni. Ora vediamo l'aggettivo in funzione attributiva, cioè quando decliniamo l'aggettivo. Prima avevamo la frase Peter ist alt. Adesso invece la frase è Peter ist ein alter Mann. In questo caso abbiamo alt, che è stato declinato, è diventato ein alter, perché appunto si trova tra un articolo e un nome, quindi tra ein e Mann. Quindi quando l'aggettivo si trova tra un articolo e un nome, assume la funzione di attributo als, e quindi avremo la declinazione dell'aggettivo, la funzione attributiva, quindi Peter ist ein alter Mann. La stessa cosa funziona con il comparativo. Stefan ist ein älterer Mann als Peter. Come notiamo, l'aggettivo non è più alt, come prima, ma è diventata älter, che è il comparativo di maggioranza, e poi abbiamo la desinenza dell'aggettivo. Quindi abbiamo Stefan ist ein älterer Mann als Peter. Ma analizziamo in dettaglio questa frase. Stefan ist ein älterer Mann als Peter. Quindi, Stefan è un uomo più anziano, più vecchio rispetto a Peter. Abbiamo quindi l'aggettivo alt, al comparativo, quindi älter, questo è il comparativo di maggioranza, e poi abbiamo la declinazione dell'aggettivo attributivo, quindi ir, ein älterer, in giallo, quindi abbiamo la declinazione dell'aggettivo. Vediamo ora anche il superlativo Rolf ist der älteste Mann von Hallen. Quindi Rolf è l'uomo più vecchio di tutti. Anche qui vediamo der älteste Mann von Hallen. Vediamo la frase in dettaglio. Rolf ist der älteste Mann von Hallen. Abbiamo anche qui il superlativo ältest. Abbiamo poi la declinazione dell'aggettivo attributivo, der älteste Mann von Hallen. Quindi, riassumendo, abbiamo visto il comparativo e il superlativo, che può avere due funzioni. Quella predicativa, quindi quella non declinata, per intenderci in parole povere, Peter ist alt, Stefan ist älter e Rolf ist am ältesten, e quella attributiva, invece quella declinata. Peter ist ein alter Mann, Stefan ist ein älterer Mann, e Rolf ist der älteste Mann. Nel comparativo abbiamo poi il secondo termine di paragone, quindi als Peter di Peter. Vediamo adesso alcuni esempi al comparativo, funzione predicativa. Il comparativo di maggioranza. Ein Tablet ist viel praktischer als ein Laptop. Comparativo di maggioranza. Quindi un Tablet è molto più pratico rispetto a un computer portatile. Ein Tablet ist nicht so schwer wie ein Laptop. Non è così pesante. Si può anche dire ist weniger schwer, è meno pesante, di un Laptop. E poi abbiamo il comparativo di uguaglianza. Ein Tablet ist so teuer wie ein Laptop. Quindi è altrettanto caro quanto appunto un portatile. Questo è il comparativo di minoranza, di uguaglianza. Abbiamo quindi il comparativo di maggioranza, aggettivo più e R, più als. Comparativo di minoranza. Abbiamo due possibilità. Ni so più aggettivo più vi. Oppure weniger più aggettivo più als. Quindi nel primo esempio, quello del comparativo di maggioranza, abbiamo l'aggettivo che appunto cambia, diventa appunto aggettivo più R. Mentre nel secondo caso, quindi nel comparativo di minoranza, l'aggettivo rimane sempre uguale. Anche quando è al comparativo di uguaglianza. So più aggettivo più vi. Comparativo di maggioranza, abbiamo quindi detto, aggettivo più R più als. Der Bildschirm eines Computer ist viel größer als der eines Tablets. Vediamo che lo schermo di un computer è evidentemente molto più grande rispetto allo schermo di un portatile. Quindi le forme del comparativo di maggioranza, abbiamo detto, si parte dall'aggettivo, aggiungiamo R. Quindi billig economico, billiger più economico. Non sarà mai come in italiano mir più aggettivo quando faccio un confronto tra due persone, tra due oggetti. Attenzione, quando gli aggettivi sono monosillabici, come arma, povero, dovrò aggiungere l'umlaut. Ermer dum, dum, dummer, stupido, groß, größer, hart, härter, duro, kalt, freddo, kälter, warm, caldo, wärmer, gesund, ecco, gesund in realtà non è un monosillabo, ma fa parte di questo gruppo. Sano, gesünder, più sano. Non prendono l'umlaut, pertanto gli aggettivi faul, laut e rasch. Quindi avremo fauler, lauter e rascher. Attenzione, alcuni aggettivi sono irregolari, o prende la diresi, però attenzione, perde la c al comparativo, la manterrà al superlativo, quindi hör più alto. Na vicino, ner, in questo caso, mantiene l'h, al superlativo invece prenderà anche la c. Attenzione agli aggettivi che finiscono in l, come dunkel. Dunkel perde la e prima della l, quindi avremo dunkel e non dunkeler, ecco, tutti gli aggettivi che appunto finiscono in l, ma anche quelli che finiscono in er, come toyer, come sour, toyer è caro, diventerà toyer più caro, dunkel più scuro, quindi dunkeler. Questa e invece verrà mantenuta al superlativo. Irregolari, anche good, che diventa besser, al comparativo gern, volentieri, che diventa liber, e molto fil, che diventa mer. Mer sarà indeclinabile, quindi rimana sempre mer, non si mette la i al plurale. Quando si usa il comparativo di maggioranza? Quando facciamo un confronto tra due oggetti, due animali, due persone, come in questo caso, ver ist älter, Peter oder Stefan, qui la scelta è tra due. Quando abbiamo il comparativo di maggioranza e abbiamo il secondo termine di paracone, in questo caso è più vecchio di. O ancora, haben Sie einen billigeren pullover? Ecco, la differenza tra la prima e la seconda frase dei due esempi è che nel primo caso abbiamo l'aggettivo in funzione predicativa, mentre nel secondo caso abbiamo l'aggettivo al comparativo in funzione attributiva, perché abbiamo anche la declinazione nell'aggettivo, quindi billiger e poi abbiamo en, in questo caso abbiamo accusativo maschile, quindi ha un maglione che costa meno, quindi più economico. Dieses gemuse ist viel gesünder, ecco, quando abbiamo anche un rafforzativo davanti all'aggettivo, molto, non si tradurrà con sehr, al comparativo, ma soltanto con viel, viel gesünder, molto più sano. E poi, anche quando abbiamo, quando vogliamo dire qualcosa di più economico, per esempio, useremo etwas, metteremo er del comparativo e poi avremo la zinenza es, perché sarà neutro, etwas billigeres, qualcosa di più economico, qualcosa di bello, di più bello, etwas schöneres, quindi er per il comparativo, più la zinenza es, per appunto l'aggettivo. Ma dove si colloca il secondo termine di paragone? Quando abbiamo il comparativo, nella costruzione della fase principale, il secondo termine paragone segue il prefisso del verbo separabile. Quindi, se abbiamo una frase con il verbo aufstehen, ich stehe, e poi avremo alla fine auf. Se voglio dire che mi alzo appunto prima rispetto a un'altra persona, io so qui la frase al preteritum, ich stand heute Morgen früher als meine Freundin, quindi mi sono alzato prima questa mattina. E poi, rispetto a chi, ecco, questo rispetto a chi segue il verbo separabile. Ma anche segue il verbo all'infinito, ich muss morgen früher aufstehen als meine Freundin. Domani mi devo alzare prima rispetto alla mia amica. Oppure anche quando abbiamo un partecipio passato, ich bin heute früher aufgestanden als meine Freundin. Quindi, questo secondo termine di paragone segue il verbo separabile, o meno il prefisso del verbo separabile, il verbo all'infinito, o il partecipio passato. Quando abbiamo il secondo termine di paragone nella frase subordinata, ecco, nella frase subordinata, segue sempre il verbo coniugato, il secondo termine di paragone. Quindi avremo da Stefan mehr gelernt hat als ich, hat erne bessere note bekommen. Il secondo termine di paragone sta sempre nel caso del primo termine. Quindi, se nel primo termine abbiamo l'accusativo, avremo l'accusativo anche nel secondo. Se abbiamo dattivo, dattivo, genitivo, genitivo. In questo caso abbiamo nominativo, diese Frau ist sympathischer. Questa donna è più simpatica al bruder del suo fratello. Quindi, nominativo nel primo termine di paragone, avremo nominativo anche nel secondo termine di paragone. Ich finde diese Frau viel sympathischer als ihren bruder. Ich finde diese Frau è accusativo, avremo quindi anche accusativo nel secondo termine di paragone. Quindi, attenzione a non pensare in italiano. Se dico che lui è più bravo di me, ecco, attenzione, non è miche, ma è iche, perché è soggetto. Per quanto invece riguarda il superlativo, dovrò appunto aggiungere st all'aggettivo, quindi se ho billich avrò billichst e poi aggiungerò l'articolo dear pullover, quindi dear billichst pullover. Dovrò declinarlo perché è un aggettivo in tutti gli effetti. Adesso, il superlativo può avere due funzioni, due valori. Può avere un valore relativo e un valore assoluto. Valore relativo, superlativo, relativo. Das ist schnellste Läufer, quindi questo è il corridore più veloce. Abbiamo qui l'articolo der e poi abbiamo Läufer. Ecco, tra l'articolo e Läufer il sostantivo abbiamo l'aggettivo al grado appunto superlativo. È il corridore più veloce. Denichie sinhabe e questo aggettivo viene anche declinato. Attenzione, se gli aggettivi termino in T come intelligent dovrò aggiungere anche una E di intelligenteste frau. Ma ci sono anche altre forme che prendono la E e anche alcune forme irregolari che adesso vedremo. Quindi, attenzione al superlativo quando gli aggettivi finiscono in D, T, in SS, SCH, Z o TZ dobbiamo aggiungere appunto una E. Abbiamo già avuto questo tema quando abbiamo fatto il genitivo, non so se vi ricordate, ecco, la stessa cosa. Quindi, se voglio dire il clima più mitte, dovrò dire das mildeste clima, das mildeste wetter, anche per il tempo, das mildeste wetter, das mildeste clima. Quindi abbiamo l'aggettivo, poi abbiamo questa E perché appunto finisce in D, e poi ST e poi declino. Attenzione, i partecipi presenti finiscono in D, ma non prendono la E, quindi der bedeuteste Dichter, il poeta più significativo. Quindi in questo caso con i partecipi presenti non dobbiamo aggiungerla E, non si può aggiungerla E. si finisce in T come becant, noto, der becanteste sänger, quindi il cantante più noto. Heiß, caldo, molto caldo, der heißeste tag, il giorno più caldo. Quando finisce in SCH, hübsch, carino, carina, die hübscheste frau, la donna più carina. Attenzione, SCH, ma non isch, come neidisch, der neidischste man, l'uomo più invidioso. Quindi attenzione che neidisch finisce in isch, in on, in SCH, e quindi non si mette la E. Der stolzeste man, l'uomo più fiero, stolz, der stolzeste. Attenzione, monosillabi che prendono appunto la dieresi come arm, quindi avremo dir ernste man, dumm, der dümmste man, groß, die größte stadt, hart, ärtest, kalt, kältest, warm, e poi dobbiamo declinarlo evidentemente. Der wärmste tag, das gesündeste essen, quindi aggettivi che non possono appunto essere divisi in sillabe risultano in eccezione perché comunque si può dividere ma prende la dierese quindi tutti questi aggettivi prendono anche l'umlaut non prendono l'umlaut come già non lo prendevano al comparativo faul laut e rasch attenzione auch prende l'umlaut das höchste gebirge die nächste haltestelle la fermata più vicina che in questo caso prende un'au però è un'eccezione prende anche la c quindi non ne con l'h ma ch invece al comparativo era senza la c altre eccezioni sono gut gern e viel che appunto di beste geschichte di meisten leute e poi c'era mein liebster freund quindi anche qui abbiamo queste forme regolari che vengono naturalmente declinate che non rimangono così mai poi abbiamo anche dunkel e teuer che mantengono per contro la e la perdevano al comparativo quindi di dunkelste nacht der teuerste puluva il maglione più caro il superlativo appunto in funzione attributiva per questo deve essere declinato appunto e concorda in genere e numero con il sostantivo e con l'articolo che precede abbiamo quindi das ist der beste kuchen den michel che es nah questa è la miglior tota che abbia mai mangiato abbiamo quindi der beste la declinazione è maschile primo gruppo der beste kuchen anna ist die fleißigste schülerin anna è l'allieva più dirigente della classe mentre nella prima frase abbiamo una frase relativa qui abbiamo una frase con un genitivo della classe stefan ist mein liebster freund è il mio amico più caro mein liebster freund abbiamo un aggettivo possessivo che segue oppure abbiamo spesso frasi con una preposizione da Montblanc ist das höxte gebirge in europa anche von a volte qui abbiamo in più complemento di luogo con appunto il continente superlativo dell'avverbio er erf am schnellst ecco qui la forma è invariata è sempre am più stein questo è il superlativo appunto dell'avverbio quindi viene declinato con stein ma rimane invariato è avverbiale infatti viaggia il più velocemente possibile viene tradotto in questo modo il più poi dobbiamo mettere possibile e cambieremo di volta in volta l'avverbio altri esempi al superlativo in funzione avverbiale petra rent am schnellsten von allen quindi petra corre il più velocemente di tutti hier ist es am wärmsten in winter ist es am kältesten anche qui abbiamo l'aggettivo al superlativo in funzione avverbiale invece nella funzione attributiva è quando appunto è preceduta dall'articolo der der kälteste januar seit segnaren il mese gennaio più freddo degli ultimi dieci anni quindi la forma del superlativo non è quella con issimo in italiano quella è il superlativo assoluto quello che abbiamo visto finora era il superlativo relativo quindi quella con l'articolo di adidas più st e rispettivamente è quella con ampio sten ecco quella con il superlativo assoluto e lo vediamo adesso è semplicemente quando è preceduta ad esempio dall'avverbio seer molto ma anche da ganz del tutto o da oisert estremamente ecco quando abbiamo appunto frasi come dieser jung il ser faul questo ragazzo è molto pigro è pigrissimo ecco questo è il superlativo italiano quello che è superlativo assoluto ma in tedesco appunto lo dobbiamo tradurre con ser più aggettivo quindi non con la forma ampio sten ich bin ganz sicher sono del tutto sicuro sono sicurissimo quindi ganz sicher siamo giunti a riepilogo abbiamo visto in questo video i gradi all'aggettivo al comparativo e al superlativo l'aggettivo può essere positivo al comparativo al superlativo in funzione predicativo in funzione attributiva in funzione predicativa al superlativo è sempre ampio sten per l'aggettivo mentre al comparativo abbiamo l'aggettivo più r più alz naturalmente ci sono anche le forme regolari la funzione attributiva invece è la funzione in cui abbiamo la declinazione anche dell'aggettivo possiamo quindi avere il comparativo oppure il superlativo con le rispettive declinazioni dell'aggettivo il comparativo si forma normalmente aggiungendo er all'aggettivo ci sono però delle eccezioni i monosillabi prendono anche l'umlaut ma non tutti poi ci sono anche delle forme regolari come gut kern e feel che diventano besser liber e mere attenzione tutti gli aggettivi che termino in dunkel e tojer quindi in l e in r perdono la e prima appunto della declinazione prima del comparativo avremo pertanto dunkler e tojer quando appunto abbiamo la scelta tra due persone tra due oggetti e due animali usiamo il comparativo verist älter stefan oder peter quando appunto anche abbiamo il secondo termine paragone al stefan chi è più vecchio rispetto a avremo il comparativo di maggioranza useremo invece il superlativo appunto quando vogliamo indicare il massimo livello di confronto anche in questo caso abbiamo delle forme regolari la regola normalmente è quella di aggiungere st all'aggettivo anche qui abbiamo la funzione predicativa che è sempre am più stein e quella attributiva che invece si declina e si concorda secondo l'aggettivo quindi con l'articolo determinativo o con mein spesso appunto abbiamo la preposizione in ma anche aus von anche nel genitivo per quanto appunto riguarda il superlativo relativo das ist der schnellste laufer quindi è il corridore più veloce che io abbia mai visto invece nella funzione appunto avverbiale abbiamo am più aggettivo più stein mentre il superlativo assoluto in tedesco è sempre con ser più aggettivo un po' Grazie a tutti